A Soresino è successo che praticamente un gruppo di rumeni completamente ubriaco, un gruppo di rumeni pare residente a Soresino o che ha occupato appartamenti a Soresino, questo ancora non lo sappiamo e chiediamo luce anche su questo. Dopo un pomeriggio di alcol per tutto il pomeriggio sono entrati in un bar chiedendo delle birre per continuare a bere. La barista si è rifiutata di darlo della birra e loro per contro risposta hanno praticamente sfasciato il bar, la vetrina, lanciando le sedie del bar contro la vetrina e aggredendo la barista. Questo è il risultato delle politiche di invasione del governo Renzi e noi chiediamo risposte da questo punto di vista perché noi chiediamo che i nostri esercenti, i nostri commercianti siano tutelati, siano sicuri come gli abitanti e chiediamo anche per quale motivo queste persone, questi delinquenti non hanno ancora ricevuto una pena e non sono ancora passati in via di giudizio. Poi chiediamo risposte anche dall'amministrazione comunale di Soresina che sembra far finta di niente ma soprattutto chiediamo risposte a quel ministro, il ministro dell'interno, il ministro Alfano che passerà la storia come uno dei danni più grossi per questo paese e per i nostri territori.